E' passata quasi una settimana dalla giorno di approvazione degli ETF di Bitcoin, che cosa sta succedendo? Stanno andando bene? Non stanno andando bene? Questi sono i dati che dovremmo andare a vedere oggi, i dati che riguardano il AUM, quindi l'asset under management e capire se effettivamente ci sono degli investimenti in atto, in corso su Bitcoin. Abbiamo visto le oscillazioni in termini di volumi, abbiamo visto le oscillazioni in termini di prezzo, abbiamo anche i dati relativi all'oscillazione dell'asset under management, andiamo a fare un po' unione dei puntini e cercare di capire che cosa sta succedendo. Ci sono dei dati che non sono molto positivi, ci sono dei dati che sono entusiasmanti, ma non tantissimo. Se dovessi riassumere in maniera molto semplice, con un'unica parola, con un'idea generale, quello che è avvenuto tra bene e male, in base anche ovviamente alle mie aspettative, direi semplicemente bene, ma non benissimo. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, lancio la moneta Bitcoin che è uscita male, non la lancio più questa moneta, si esce sempre male, no vabbè, allora vediamo se hai ragione questa volta. Allora, benvenuti a tutti in questo nuovo video di aggiornamento generale della situazione sui mercati dell'ecrito, ma più che altro un video dove andremo a cercare di comprendere alcune news, se sono vere o non sono vere, come vanno interpretate, ci sono tanti spunti che possiamo ottenere da analisi di natura statistica, ma anche tante incomprensioni che a volte si vanno a verificare e bisogna un po' ragionare al di là dei numeri, quindi andare a guardare sempre dietro i numeri per vedere un po' il fenomeno che stiamo cercando di analizzare, quello che si nasconde, eccetera. Io inizierei oggi con questa prima news ragazzi, cioè la questione che ProShare ha presentato 5 nuovi ETF di Bitcoin di esposizione in diretta perché sono ETF alle finanziarie, stanno arrivando. Allora, cioè gli ETF su Bitcoin che sono esposti in maniera leverage sia long ma sia short, tant'è vero che da questo punto di vista per esempio sono stati presentati anche 3 ETF short, ultra short, short e short plus, che saranno legati probabilmente a leva meno 1x, leva meno 2x e leva meno 1,5, quindi in pratica anche quelli long, ce n'è anche uno long ovviamente che sarà probabilmente il plus a 1.5 esatto e l'ultra Bitcoin a 2x. In pratica sono ETF già leverage, quindi sarà possibile utilizzare gli ETF di ProShare se la tech approverà per creare effetto leverage anche su Bitcoin, ma attenzione, 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 lo ripeto, attenzione. Con quelli short sarà possibile fare coperture sulle proprie posizioni in holding detenute sui hard wallet. Questo è molto importante perché consente a chi ha Bitcoin a parte, quindi Bitcoin nella struttura blockchain classica, quindi non nell'ETF, di poter utilizzare la old economy, quindi di poter utilizzare quelli che sono gli investimenti classici per proteggere quelle che sono le proprie posizioni presenti magari su un hard wallet o su un wallet privato. E questo è molto interessante utilizzando proprio gli ETF short di ProShare. Ovviamente bisognerà capire se e quando saranno approvate, soprattutto la questione Europa che come sapete vi ho appuntato anche nello short di ieri su YouTube che in pratica non si possono utilizzare. Io ho riuscito a utilizzarli perché se siete degli investitori professionali, Interactive Brokers, anche Pineco ragazzi, vi dà l'accesso agli ETF americani, però dovete essere investitori professionali e non retail. Da quel punto di vista vi danno quindi l'accesso, altrimenti non li potete utilizzare. Spero ci sono altri tipi di ETF, li ho mostrati nello short di ieri, poi magari se volete li approfondiamo questi ETF in Europa tra quelli che ci sono, insomma quali sono i migliori. Anzi se volete una cosa del genere facciamo così, scrivetemelo nei commenti di questo video così magari facciamo un video dedicato e andiamo ad analizzare quelli che sono quelle tipologie di ETF. Allora questa è una bella news interessante e soprattutto darà la possibilità, vedete già un po' come si vanno a mischiare le carte perché la qualità dell'ETF, la questione legata alla produzione di un ETF e anche la possibilità di utilizzare poi Bitcoin all'interno di panieri, di altre cose, di poter avere strumenti di copertura che sono più efficienti di altri strumenti perché un ETF short in questo caso non ha il funding. Quindi è importante andare a ragionare su questa cosa e sarà importante andare a comprendere che è anche a leva, quindi se io voglio utilizzare una leva 2 vuol dire che uso metà del capitale per la copertura rispetto a quello che ho, non so, si possono fare tante cose quindi una volta che verranno approvate sarà interessante ragazzi. Però la notizia che volevo farvi vedere era questa. Allora noi abbiamo assistito in queste settimane ad un down di Bitcoin e palesi quindi c'è stato un sell on news sulla uscita dell'ETF. Un sell on news dovuto al fatto che la notizia non è stata apprezzata? No. Allora si può presumere che infatti avendo avuto un sell on news praticamente su Bitcoin che è non crollato però non è andato bene, no? Non è che possiamo dire è andato bene, no? Non è andato bene, bisogna dire le cose come stanno, quindi non è andato bene perché è sceso moltissimo dal giorno dell'approvazione, l'11 è la prima negoziazione, poi ha fatto l'hype iniziale e poi è andato down di 7-8 punti percentuali. Se andiamo a guardare la struttura in pratica di oscillazione dai massimi che erano stati ottenuti abbiamo raggiunto un meno 15, quindi in 2-3 giorni è arrivato a questo tipo di oscillazione negativa per quanto riguarda il Bitcoin. Ma questo quindi indica in sostanza che l'ETF Bitcoin è stato preso male dal mercato? No, anche perché questo concetto potrebbe essere visto in quest'ottica, invece bisogna andare al di là dei numeri. Che cosa sta succedendo? Molti di voi probabilmente sanno già questa notizia, avranno letto già questa notizia, cioè la questione che Grayscale sta dampando in pratica molti Bitcoin, intanto per dei motivi molto semplici. Ci sono due motivi. Uno era stato il fatto che Grayscale aveva tanti Bitcoin all'interno del suo trust che per anni non sono potuti uscire, in pratica gli investitori erano bloccati sul trust di Grayscale e quindi non riuscivano a venderli. Quindi, in seconda analisi, lo scorso anno l'acquisto delle azioni di Grayscale per entrare nel trust di Bitcoin era a sconto di quasi il 40% o oltre il 40%. Questo significa che se nel 2023 voi avete non comprato Bitcoin, ma avete comprato il trust di Grayscale, oggi con l'avvento dell'ETF vi trovate l'intero rendimento di Bitcoin più il premio che era il 40% circa rispetto all'anno precedente. Questo significa che avete fatto super bingo, non bingo. Molti di loro quindi che cosa stanno facendo? Stanno dampando il Bitcoin ragazzi, stanno chiudendo posizioni che non avevano potuto chiudere precedentemente, stanno uscendo dal trust di Grayscale che al momento ha un asset under management di 26 miliardi ragazzi, quindi enorme. Questo è il discorso. Quindi quasi tutta la fetta degli ETF asset è detenuta da Grayscale e poi il resto è stato spalmato. Quindi, da un certo punto di vista, questo dampone che è arrivato deriva proprio da questo meccanismo. È un dampo però controllato. Modifica le prospettive a lungo periodo? No. È finito? No. Perché non è finito? Perché vi faccio vedere anche queste altre notizie. Per esempio, questa è proprio arrivata pochissimi minuti fa ragazzi, cioè la possibilità che Grayscale abbia mandato altri Bitcoin per un totale finale di altri 20 mila perché 4 li aveva già mandati, 4 mila Bitcoin, 9 li aveva mandati precedentemente. In totale sembrerebbe che siamo arrivati quasi al 20 mila Bitcoin, di cui però ragazzi altri circa 9 mila, se non erro, sono stati mandati oggi su Coinbase per la liquidazione. Quindi noi finora abbiamo visto liquidare circa 10 mila Bitcoin, dovremmo vedere ancora un'altra quantità di Bitcoin da liquidare. Ora, è possibile quindi assistere nei prossimi giorni a un damp ulteriore di questo prezzo perché probabilmente il livello di supporto che è in questione attuale non reggerà il damp magari di questi altri Bitcoin e quindi assisteremo a un eventuale, diciamo non scrive più la penna, invece semplicemente stavo scrivendo in nero. Allora, lo rietti ragazzi, lo scrive più, che sta succedendo? Allora, vediamo se riesco, eccolo qui, a ripristinare la mia sfera. Ok, dovrei esserci riuscito, eccolo qui. Allora, in questo caso, in pratica abbiamo, ragazzi, quella, la questione appunto legata proprio alla possibilità che questo livello non mantenga. Allora, anche questo va considerato assolutamente in questi prossimi giorni perché ancora la questione di Grayscale non è finita. Ma che cosa sta succedendo nel complesso? Allora, se da una parte Grayscale dampa e gli altri comprano, perché Bitcoin non si mantiene? Vi faccio vedere anche la tabella di prima dove in pratica una parte dei flow che stanno uscendo da Grayscale finisce in sostanza nelle tasche di BlackRock, Fidelity, Bitwise, Ark, eccetera. Perché questo succede? Anche perché la performance fee di Grayscale, la performance, la management fee, scusate, di Grayscale è molto più alta di quella di Bitcoin Trust, per esempio, di BlackRock, Windashare, di Fidelity, di Bitwise. Perché è più alta, ragazzi? Perché è più alta? Per un semplice questione. È più alta perché Grayscale, che finora ha macinato soldi facili con queste management fee, non vuole mollare l'osso, sostanzialmente è così. E quindi fa pagare una performance fee, una management fee annuale sui suoi depositi molto più alta degli altri, anche perché molti di quegli investitori, forse, vorranno non vendere le proprie posizioni. Perché cosa succede se escono dal trust di Grayscale? Devono pagare le tasse, ragazzi, sui rendimenti che hanno ottenuto. Immaginate chi magari è dentro lì, non so, da prezzi memorabili e deve andare a pagare tasse mostruose. Allora dice, vabbè, aspetto magari un paio d'anni perché la differenza del punto e mezzo percentuale, punto 0,25, dovrebbe essere 1,25 in più il costo di Grayscale, non vale la pena rispetto alla marasma di tasse che magari devo andare a pagare. Quindi, forte di questa posizione, Grayscale, sta tenendo le sue commissioni a livello molto alto, anche perché sa che nel momento in cui vede magari pericolo, può scendere a livello degli altri e quindi il gioco è fatto. Ma fin tanto che la barca va, lasciala andare, quindi questa è concettualmente la loro idea. Se io sto facendo soldi, in questo caso facili perché è lo stesso identico prodotto, costa solo il triplo e basta, io sto facendo soldi facili sui miei vecchi clienti, io finché la barca va, lasciala andare e sta lì, no? Perché loro se escono devono pagare tasse, diciamo, terribili e quindi io me li tengo lì. Quindi in pratica che sta succedendo? Che molti però decidono lo stesso di uscire perché magari sono quelli piccoli, quelli che magari hanno tassazioni più accettabili o decidono semplicemente di pagare le tasse e vanno a ricomprarsi l'iShare Bitcoin Trust, il Fidelity Bitcoin Fund, il Bitwise Bitcoin ETF, eccetera. Cioè vanno in pratica a ruotare i loro investimenti da quello di Grayscale agli altri. Ma in questo contesto c'è una perdita, a prescindere ragazzi, perché? Perché devono pagare le tasse. Quindi se io vado a chiudere, e faccio insomma un conto al qualitativo, non al dettaglio, se io vado a chiudere 10 milioni di asset di Bitcoin, devo pagare più o meno il 20-25% di tasse, quindi 2 milioni e mezzo. Spariscono, non ci sono più ragazzi, questo è concettualmente il problema. Quindi da una parte stanno ruotando, ma dall'altra nella rotazione alcuni investimenti stanno scomparendo perché sono tasse. Quello è il discorso, se ne vanno in tasse. Quindi sostanzialmente non ci esistono più. Quindi loro venderanno dei Bitcoin che poi non rientrano, quei dollari diciamo non rientrano nuovamente. E in questo contesto che è bene andare a specificare, se noi andiamo a vedere per esempio il total flow dei mercato, ci dice che abbiamo fatto un billion in più, al di là del fatto che Grayscale sta facendo l'outflow e al di là del concetto delle tasse che fanno distruggere in pratica il valore investito in questi ETF, in questi contenitori. Perciò questo livello che in tre giorni è avvenuto di quasi un billion in pratica di investimento ha un valore importante. Non è un numero stratosferico perché soprattutto noi dovremmo andare a controllare il trend di questo numero. Perché all'inizio si sa ragazzi, un prodotto può avere grande appeal perché è all'inizio. Dall'altra parte c'è Grayscale che vende, è vero, però dall'altra parte questi prodotti sono all'inizio e possono avere molto appeal. Quindi bisognerà controllarlo nel corso delle prossime settimane. Però dall'altra dobbiamo anche dire che ci sono dei fattori positivi. Stiamo assorbendo gli outflow di Grayscale e anche la diminuzione degli asset dollari pagati in tasse che se ne sfumano praticamente nel nulla. E poi a questo addirittura abbiamo comunque un flow positivo. Quindi significa che questo numero compensa, diciamo, tutta la questione di Grayscale e compensa anche le tasse che vengono pagate. E abbiamo fatto un billion, quindi l'interesse c'è e l'ETF Bitcoin piace. È uno strumento che piace e anche lo abbiamo visto con ProShare che sta presentando la parte short. Può avere successo? I volumi ci dicono che può avere successo. Sono stati mantenuti anche nei giorni. È ancora troppo presto, una settimana. Gli AUM ci dicono che sta avendo un discreto successo. Bene, ma non benissimo. Dobbiamo però renderci anche conto che questo trend potrebbe anche continuare nel corso dei prossimi settimane. Quindi se questo trend si ferma, siamo appunto a un bene, ma non benissimo. Se questo trend continua, diventa molto, molto bene. Che è un discorso diverso. Allora, così si analizzano questi numeri e si danno spiegazioni concrete, oggettive del fenomeno in questione. Il prezzo in tutto ciò, che cosa può andare a fare? Allora, ragazzi, la questione è legata al concetto che se io vado a fare degli outflow importanti e non sto molto attento a come li vado a vendere, quelli di Gerscale sono un po' consistenti, perché noi qui, per esempio, abbiamo ancora 26 miliardi di dollari sotto gestione. Rispetto agli altri c'è troppa disparità, quindi io prevedo che questa struttura di asset continuerà a defluire negli altri ETF di Bitcoin. Fino a quando avverrà questa rotazione, da un punto di vista tecnico, secondo me, il pricing di Bitcoin, grandi impennate, grandi movimenti rialzisti, non riuscirà a farli perché semplicemente, probabilmente verranno utilizzati i massimi e quindi gli espluari rialzisti per essere appunto venduti, in maniera tale che poi si fanno acquisti successivamente a prezzi anche abbastanza bassi. Badate bene che se io, ragazzi, vendo dal Trust di Grayscale e vendo subito e poi attendo un pochino, ricompro dopo, posso anche sovraperformare il differenziale. Quindi potrebbe anche essere che chi sta vendendo magari in questo contesto di Grayscale si prende il money, paga le tasse e attende, va bene? Attende, ragazzi, perché se attende che il prezzo gli dia un prezzo di ingresso migliore può essere appunto che quei livelli ancora non entreranno. Quindi man mano che questo sviluppo degli atteggiamenti degli investitori si andrà a delineare, noi avremo anche sul prezzo determinate informazioni. È vero, ci sono degli AOM che stanno aumentando, non sono però inconsistenti in maniera tale dal dire boom di prezzo. Ancora ci sono delle vendite che sono anche scaglionate, abbiamo visto altri 11-10 mila Bitcoin entrare sul Coinbase che devono essere liquidati probabilmente nei prossimi giorni e il concetto è se io liquido e vedo che il trend si riduce magari attendo qualche mese. Attendo qualche mese potrebbe anche essere che Bitcoin si vada a configurare un trend laterale ribassista o leggermente ribassista. Andiamo alla questione anche di natura tecnica, giusto per farvelo comprendere. Qui abbiamo anche un concetto tecnico molto importante cioè la candelona terribile che è stata disegnata a livello di analisi tecnica settimanale la scorsa settimana e questa settimana che noi siamo a mercoledì è in barra di congestione, ma attenzione perché il minimo della candela scorsa è il vero supporto di questa settimana, 41 mila e 5 ancora sta reggendo. Se per caso dovesse andare a rompersi il minimo di 41 mila in questa settimana è probabile assistere a un nuovo sciacquone. Oppure è tutto rimandato alla settimana successiva. Io sto monitorando molto attentamente questa fase e badate bene è una fase short term, non è una fase long term e neanche middle term perché è una fase che secondo me può dare un riequilibrio degli eccessi di quello che avevamo visto alla fine del 2023 dare un secondo punto di ingresso dopo che il turnover magari di crescale viene messo in standby se si dovesse creare secondo me una spirale ribassista sarà un po' pericoloso perché da una parte la domanda di nuove bitcoin potrebbe frenare in quanto io investitore dico aspetto perché ora sta scendendo dall'altra chi deve vendere e uscire da grayscale potrebbe accelerare l'offerta e dire guarda esco perché preferisco pagare le tasse e poi mi riposiziono perché qui magari ritorno a scendere e perdo il profitto che ho fatto lo scorso anno. Quindi capite bene come l'entità emotiva tra virgolette e gli atteggiamenti emotivi riflessivi degli investitori nelle prossime settimane potrebbero essere fortemente direzionali da una parte e dall'altra questo perché esistono queste strutture e non riusciamo ancora a riequilibrarle fin tanto che quindi la questione legata a grayscale non si placca in pratica le fuoriscite non si placano e non hanno raggiunto un punto di equilibrio secondo me potranno farlo quando per esempio questi 26 miliardi raggiungeranno più o meno non dico la metà ragazzi ma qualche miliardino in meno servirà ne ha persi mi pare 3 o 4 dall'inizio secondo me deve scendere sotto i 20 almeno e soprattutto dovranno salire i suoi 3 maggiori competitor che sono iShare quindi BlackRock, Fidelity e Bitwise c'è anche ARK che dice la sua però diciamo poi sono un po' più piccolini gli altri detto questo ragazzi cosa ne pensate di questo concetto attenzione quindi al breve ma attenzione anche alla volatilità negativa perché dovesse innescarsi quella miccia basta un niente per creare un effetto a catena e quindi potrebbe esserci nei prossimi mesi nelle prossime settimane barra fino a marzo in generale un po' di volatilità indotta proprio da queste questioni cosa ne pensate siete preparati per gestire questo momento è un momento short term ma un momento che può dare difficoltà a un investitore che non è preparato a questa volatilità fate i compiti a casa sempre grande formazione grande studio prima di cliccare sul tasto buy o sell e quindi importantissimo fare le vostre ricerche e impostare i vostri trading plan non dimenticatelo per oggi è tutto ci vediamo nel prossimo video ciao